Altra storia dolce a C'è posta per te, cari amici, è Stefano De Martino, protagonista, l'abbiamo visto subito in immagine, e Alessia. La prima storia della puntata di sabato è quella infatti di Alessia, una ragazza rimasta orfana dai genitori troppo presto. E a chiamare Maria De Filippi è stata la zia Raffaella, che per Alessia è diventata praticamente col tempo una seconda mamma. Nella lettera inviata scrive, i bambini dovrebbero essere protetti da certi fatti, invece le braccia della tua mamma le hai dovute lasciare troppo presto. Alessia ha perso la mamma a causa di una malattia, mentre il papà è morto a seguito di un incidente. Ci siamo ritrovate orfane entrambe, tu eri solo una piccola principessa, racconta la zia. Nello studio Alessia non riesce a capire chi possa averla chiamata ed è stupita di vedere la zia e le sue due migliori amiche. Purtroppo la ragazza, dopo tutto il dolore vissuto, ha tante insicurezze ed è molto condizionata da preoccupazioni. Per lei c'è però un regalo speciale. Il regalo per Alessia è la presenza in studio di Stefano De Martino che racconta la sua storia per stimolare la ragazza. La vita molte volte ci porta via persone che amiamo tanto, però spesso ce ne portano altre. Quando ho incontrato tua zia e le tue amiche ho pensato a quanto amore tu abbia attorno nonostante le cose accadute. Non vorremmo mai separarci dai nostri genitori e a te è successo troppo presto, però la vita ti ha riservato incontri speciali e tua zia è diventata la tua nuova famiglia. Anche io ho avuto più vite e ascoltando la tua storia ho pensato a questo. Quante vite può contenere una vita e ce ne sono tante. Bisogna solo dare alle nuove vite la possibilità di nascere, dice Stefano De Martino, sono sicuro che dentro di te ce ne siano tante che non vedono l'ora di nascere. A volte quando accadono le cose brutte si ha paura di cose nuove, si ha paura che le persone ci lascino. Il passato non è stato felice, ma ho una buona notizia, non siamo nel passato. Credi di più in te stessa e dai alle altre Alessia, agli altri piccoli pezzi di vita, la possibilità di vivere, la possibilità di ricominciare. Questo però puoi farlo solo tu, non io, non le tue amiche, non tua zia. Stefano De Martino ha portato ad Alessia alcuni oggetti. Tra questi il libro il giovane Holden, di Selinger, è uno dei miei preferiti, dice lo showman da ragazzino leggevo poco ma poi ho capito l'importanza della cosa. Oggi lo faccio soprattutto mentre viaggio. E proprio un viaggio in aereo faranno Alessia e le sue amiche, altro dono di Stefano. La ragazza è commossa e felice. Non ho mai preso un aereo in vita mia.